che lavoro hai fatto io la volta c'era la terra i contadini c'eravamo dopo ho cominciato a ricamare per una ditta di milano devo assaggiare c'erano un metro di terra doveva dal fiume no ma io mamma lo stesso per la terra potà andavano le vigni saioni a dal sol fra l'acqua le vite quando si faceva i paiali quella era la roba più brutta come si faceva il paiali e mamma con le bestie ci portavano il fine a casa dopo mamma col forcone mandava sulla roba di paiali sono facendo quanto era da cima a buzze mamma non teneva la corda da qua e io scendeva la corda da lì siamo dicendo arnash non arnash non auguria arnash invece avete parlato tutti i ricordi comunque brutti perché guerra eccetera alcuni ricordi belli che più che più vi sono rimasti impressi dopo sposata almeno non so fare più ne soldi ne mi è insostata bene però è capitato dopo sposata loro non lo scrivono grazie grazie grazie